E si torna a parlare di separazione di Venezia da Mestre. I comitati che da quasi 40 anni si battono per far tornare l'assetto amministrativo del territorio, come era prima della presa del potere del fascismo, questa volta hanno dichiarato sono certi di farcela. Hanno dato appuntamento ai giornalisti lunedì prossimo per una conferenza stampa e al centro dell'incontro ci saranno le 9.000 firme raccolte per indire un nuovo referendum e sarebbe il quinto. Secondo uno dei promotori, l'avvocato Marco Siteran a Mestre è cambiata l'aria. Dal 79 ad oggi il movimento separatista ha raccolto sempre più proseliti. Aveva contro il 78% della popolazione, ma ad ogni referendum la fila dei sostenitori dell'unità si è via via assottigliata. Tanto che nel 1994 i sì salirono al 44%. Nel 2003 però non venne raggiunto nemmeno il quorum e la partecipazione si fermò al 39%. Un flop. Ma è un segnale che i separatisti si rifiutano di commentare. Ora non c'è nemmeno la legge speciale a fare da collante per tenere unite le due città. E Venezia, secondo i separatisti, ormai agonizzante potrà salvarsi soltanto da sola. E sono convinti che il terreno ora sia fertile.